Buon dia ragazzi, benvenuti a un altro video, noi siamo i Citydating e oggi ci troviamo di nuovo nella splendida città di Rimini Stiamo cercando di andare a raggiungere dei nostri amici, Leonardo che avete visto nel video precedente di Rimini Di Napoli, anche di Napoli, scusate ragazzi se non ero con voi a Napoli, volevo veramente andare Però diciamo che inconvenienti capitano, ma meno male che c'è nato Omar e ha spaccato E comunque rimanete, iscrivetevi e commentate perché staranno anche la parte 2 di Napoli ragazzi No, loro vedranno questo video quando già hanno visto la parte 2 Ah ok, quindi così, capito? Beh, come vedete siamo molto organizzati ragazzi Se c'è qualcosa che non manca in questo vlog è la professionalità come potete vedere Non so neanche se sto filmando le nostre facce in realtà, però In effetti sì Va benissimo, è proprio il bello di questo vlog è la... come si dice? Il bello di questo vlog è... L'originalità, la... 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 la rudezza La rudezza, aspetta che prendi il dizionario e tono ragazzi Anzi, commentate voi che parola pensiate sia più accademica per questa situazione Ok, siamo arrivati sempre a questo spot bellissimo, l'anagrafe o ex-anagrafe, come si dice? Anagrafe, anagrafe Questa è l'anagrafe ufficiale Per ora siamo questi, salutate, ciao Ciao, ciao vlog, ci rivediamo Sì Ragazzi state attenti ai licheni, sempre attenti ai licheni Sì Sì Vecchio, stai calmo Sì Sì, sì, sì Ci stiamo spostando dallo spot per andare in un altro spot Come vedete siamo in questo spottino al momento Perché ci siamo radunati con altre persone e così siamo più numerosi e più numerosi siamo più è bello l'allenamento Dobri fare un back ma non c'è la faccia Come no? Oh 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 Cut Cut Oh 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 Sì 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 Oss! What? 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 Ragazzi in questo spot c'è questa erba proprio sofficissima che ti dà proprio la confidenza che... Che dici mi butto tanto l'erba c'è l'erba morbida e proprio per questo motivo siamo già in due infortunati Luis? Ho stallonato, stavo provando a fare passo al muro, pump, spin e poi avvitamento tra sessi Avrete anche già visto il fail anche a sto punto Poi c'è Leo che non abbiamo filmato su fail però tipo provava doppio... Doppio full Doppio full E quindi è morto, caduto Io sarei fortunato Siamo Marco Timo Siamo Marco Timo Poi 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 Ciao ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video Ho già detto tutto Abbiamo già detto tutto Ciao